Siamo qui per ribadire la posizione dell'Italia dei diritti di fronte a un fenomeno preoccupante e vergognoso che purtroppo è presente nel panorama politico italiano. Siamo al fianco dell'IDV di Antonio Di Pietro per combattere il fenomeno dei pregiudicati in Parlamento, la presenza di pregiudicati in Parlamento. Nella legislatura che si è appena conclusa erano esattamente 25 i condannati che sedevano sugli scranni del Parlamento, delle due aule dove si promulgano le leggi. È veramente una cosa vergognosa, erano 25 pregiudicati, 10 prescritti e un prosciolto per immunità. Ricordiamo che i 10 prescritti non erano innocenti, la prescrizione sopraggiunge e evita che l'imputato venga condannato, anche se riconosciuto colpevole, perciò vuol dire che il prescritto è colpevole ma non si può più condannare, non sono applicabili gli effetti sanzionatori della legge. Non dimentichiamo questo concetto che è molto importante. Noi biasimiamo le forze politiche che fino ad oggi hanno posto semplicemente indifferenza di fronte a questo fenomeno, indifferenza. Qui si rischia di stabilizzare i concetti netti del bene e del male nelle menti adolescenziali. I reati vanno dalla corruzione, vanno dall'associazione nafiosa, all'associazione nafiosa, all'associazione nafiosa, all'associazione